La giornata è una giornata che rappresenta quello che in questi mesi abbiamo costruito abbattendo le frontiere culturali e fisiche di una patria nazionale completamente chiusa su se stessa le organizzazioni volontarie, gli attivisti, i movimenti hanno manifestato la vera Roma, la Roma accogliente, solidale un centro di primissima accoglienza che non li costringa a dormire all'aperto, un tavolo permanente per la questione dei migranti a Roma con le diverse realtà che sono a contatto con i migranti Gli accordi indegni che sono stati fatti dal Consiglio Europeo rappresentano una fortezza che però non è immanicabile perché centinaia di persone la bucano tutti i giorni perché la libertà è più forte della nazionalità, la libertà è più forte dell'egoismo nazionale la libertà è più forte della finanza, la libertà è più forte di quei fascisti che stanno governando questa Europa